La cooperativa Vivi Cilento, presieduta da Emanuel Ruocco, organizza per le giornate del 6, 7, 8, 9 e 10 settembre il progetto Cilento Destination, un educational dove la parola d'ordine sarà la promozione del Cilento, con la sua cultura, le sue bellezze naturalistiche e la sua gastronomia. È un progetto che nasce all'incirca un anno fa, dove siamo andati a confrontarci un po' sulle esigenze del territorio, perché in effetti Vivi Cilento sta lavorando molto in sinergia con gli imprenditori del territorio per migliorare quella che è l'accoglienza. Non sto qui a ricordare l'Infopoint e tante iniziative, anche la Vivi Cilento Card. Volevamo fare un passo in avanti, uno step anche di maturazione di Vivi Cilento, abbiamo pensato di organizzare un evento dove porteremo qui nel Cilento tour operator, blogger, direttori di riviste del turismo, non solo nazionali, perché diciamo che già sono un paio d'anni che giriamo per le fiere nazionali e internazionali, abbiamo avuto modo di raccogliere tantissimi contatti e quindi abbiamo pensato di fare questo evento dove porteremo all'incirca 50 persone a cui faremo visitare il Cilento, le cose più belle del Cilento, quindi i siti Unesco e tutte le meraviglie ovviamente che non sto qui a elencare, per far capire che il Cilento effettivamente può diventare una meta turistica riconosciuta. Ovviamente questo percorso deve avvenire tramite queste persone, quindi tour operator che riescono a veicolare appunto la domanda verso il Cilento e i blogger che oggigiorno possono tranquillamente definirsi, non so, forse grazie a loro magari riusciamo a tenere grandissimi risultati, tant'è vero che abbiamo fatto una bella selezione di questi blogger che ci permetteranno di avere veramente numeri importanti di visualizzazione su tutte le quattro giornate su cui si svilupperà l'evento. L'evento inizierà il 6 settembre e durerà fino al 10 sera con anche diversi momenti culturali, workshop, quindi se ci sono anche alberghi, strutture ricettive interessate basta andare sul nostro sito ufficiale che è www.cilentodistination.it, ci sarà un modulo per richiedere maggiori informazioni, ovviamente verranno poi contattati e da lì sicuramente poi avremo modo di spiegare in dettaglio tutto l'evento e capire bene se c'è modo di collaborare. Partner di questa iniziativa che si è occupata della comunicazione e logistica del progetto Cilento Destination è la Viral Passport di Roma. Noi siamo una società Viral Passport che ha sede a Roma, collaboriamo con Emanuel da qualche anno, quindi quello che facciamo noi è proprio attività di promozione, quindi facciamo appunto questo evento con lui, facciamo tante fiere durante l'anno e queste ci hanno permesso di conoscere Tour Operator e anche Blogger. Siamo molto attivi sui social, quindi tramite questi canali siamo riusciti a intercettare queste persone, queste personalità, queste aziende alla fine sono, che verranno qui sul territorio e si occuperanno appunto di divulgazione, chi tramite appunto social network e chi tramite i loro canali sui territori. Quindi abbiamo coinvolto loro, abbiamo coinvolto testate giornalistiche, abbiamo coinvolto riviste extra nazionali, ad esempio verrà una rivista che viene distribuita in tutto il Ticino, abbiamo coinvolto radio, quindi sarà un lavoro a 360 gradi per permettere la maggiore divulgazione possibile con più canali possibili. Poi è nata insieme a Punti Emanuel l'esigenza e la volontà di organizzare questo educational. Secondo me il Cilento offre tanto, tanto e per tutti i gusti, perché proprio l'educational non toccherà principalmente mare, ma toccherà appunto quelle tematiche che dicevo prima, proprio per far capire che non è solo turismo balneare, ma c'è tante altre cose da vedere dal punto di vista culturale, gastronomico e naturalistico, dal Valo di Diano agli Alburni, insomma c'è un'offerta turistica molto variegata, quindi secondo me è un territorio che deve essere ancora scoperto a dovere e valorizzato a dovere. Grazie.